Buongiorno e benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 7 maggio del 2020. Vediamo subito quali sono i titoli del giornale, anzi no, oggi facciamo un'analisi logica, cari amici, del Corriere della Sera, perché quando voi leggete il Corriere della Sera oggi capite che cosa sta succedendo in questo paese, cioè cosa sta succedendo nel giornale unico della televisione italiana Pro Conte, Pro Conte, nonostante le minchiate che dica Padellaro e tutti questi che piegnucolano sul fatto che tutti attaccano Conte. Vorrei segnalare a questi signori che il giorno in cui Di Matteo dice che Bonafede lo nomina al DAP non c'è un minuto, un minuto, venti secondi di informazione sul Tg1. Ma voglio dire, non mi stupisco, il Tg1 è sempre governativo, voglio dire, quando lo faceva con Berlusconi e con Salvini succedeva la fine del mondo, quando succede ovviamente con Bonafede non succede nulla, ma comunque vi voglio leggere il Corriere della Sera di oggi cinque titoli, uno in fila all'altro, così mi dite? Esattamente se questa è l'informazione in Italia da regime, riaperture, Conte accelera. No, scusatemi, scusatemi, uno vorrebbe dire, ma scusate ma come Conte accelera? Se soltanto due settimane fa ha detto che dovevamo rimanere tutti chiusi, Conte ci ripensa. No, accelera, anche il messaggero titola così. Poi Bonafede, secondo tema di giornale, cambio il decreto e faccio un decreto e rimetto in galera i mafiosi. Ma si è fatto lui un decreto per il quale sono usciti e qui sembra che Bonafede oggi faccia il fenomeno, pezzo del Corriere della Sera, mi sembra della Midella, che ci faccia capire che mette i mafiosi in carcere. Ma è lui che ha scelto l'uomo che li ha fatti uscire dal carcere, peraltro bravissima persona, è lui che ha fatto la circolare attraverso il DAP per cui questi sono usciti e oggi fa il fenomeno e dice che li fa ritornare in carcere con un decreto peraltro violando l'autonomia dei magistrati, tutti zitti e muti, tranne Caselli e poi ne parleremo. Poi, i ristoratori che ieri vengono multati, andate sul mio sito perché non voglio continuare a dirlo, ho fatto un video ieri sera a caldo su questi ristoratori multati a Milano, la foto di prima pagina sul Corriere della Sera scrive, multati i ristoratori per un flash mob, aperta parentesi, chiusa parentesi, non autorizzato. Cari giornalisti, cari giornalisti del Corriere della Sera, bravi, bravi. Sarà Conte e Casalino saranno contenti di quella parentesi, gli italiani un pochino meno. Cosa dici? Non autorizzato il flash mob, ragazzi, ma qua siamo completamente impazziti, siamo veramente... Quando è che abbiamo deciso di scendere in questo inferno della libertà? Quando è che abbiamo deciso, con la raggi che ci dobbiamo meritare di andare nei parchi pubblici? Quando è che abbiamo deciso che Conte stabilisce le nostre libertà e i nostri assembramenti? Nuova parola dell'orrore! Si sono ritrovati 20... oggi solo il giornale coglie questa cosa dei ristoratori multati, 400 euro di ristoratori multati che vogliono fare soltanto il loro lavoro e che sono bloccati a casa. Il signor Sala dove andrà a mangiare? Dove troverà? Oggi c'era un pezzo del mio amico Rigolo, bravissimo Renato, che a dispetto delle minchiate che si dicevano le settimane scorse, riapre, ma riapre con quante difficoltà e come dice bene sul Corriere della Sera sono stato lasciato solo. Però il flash mob non autorizzato, segnaliamolo al Corriere della Sera che non è autorizzato, perché questi sono dei delinquenti, questi ristoratori che vanno in piazza a manifestare. Ma quando mai li avete visti voi i ristoratori in piazza a manifestare? Se questi scendono in piazza a manifestare con i baristi, ma quanto devono essere disperati? Comunque ne parlo sul mio video sul sito nicolaporro.it. E poi è fantastico, perché oggi leggo il pezzo di Franco sul Corriere della Sera, sul decreto di aprile che doveva venire a maggio e siamo già al 7 maggio e probabilmente viene rinviato ancora un'altra volta in cui ci dovrebbero essere gli aiuti e le imprese. Sapete cosa scrive l'Aedo dell'informazione contiana oggi sul Corriere della Sera? Oggi che l'avvocato del popolo piace tanto a Franco e al Corriere della Sera? Beh, insomma, che pizza tutti questi micro-interessi che non permettono al governo. Aspetta che ve lo leggo bene cosa scrive Franco, perché è una cosa che io non ci potevo credere. Cioè sono i micro-interessi che costringono il governo a spostarsi da un fronte all'altro. No! Non è un governo che non riesce a prendere una decisione. Non è un governo che ha fatto un decreto di marzo in cui non è arrivata ancora una lira di liquidità alle aziende. No! Per Franco sono i micro-interessi. Cioè il governo, poveraccio, ci mette tutto la buona volontà per farlo. È una cosa imbarazzante. Un Corriere della Sera così governativo e così acritico è una cosa imbarazzante. Ma imbarazzante perché bisogna andare a vedere poi il Repubblica. Perché Repubblica è il giornale che oggi titola ovviamente sull'altra questione fondamentale. Adesso ve lo leggo. Aspettate che la cosa di Repubblica è stupenda perché Repubblica è quel giornale che ieri ha scoperto che ci sono 368 mafiosi che sono stati buttati via dal carcere e sono entrati nelle loro case. E i mafiosi scarcerati dice come si dice Bonafede voglio cambiare, voglio un cambio radicale. Ma il cambio radicale rispetto a quello che ha fatto Bonafede? Cioè io lo difendo pure Bonafede nei confronti di Di Matteo che mi sembra un giudice un po' pazzarello che da presidente del CSM dopo due anni sostiene che Bonafede non l'abbia nominato a lui Dio in terra Di Matteo della lotta contro l'antimafia non lo abbia nominato perché c'erano i mafiosi che si preoccupavano. Io non credo a questa ricostruzione di Di Matteo, però non esageriamo perché il decreto per il quale sono usciti questi qua dal carcere, caro mio, nasce dalle tuoi uffici, non da quelli di Babbo Natale. E poi questa minchiata che continui a raccontare che hai offerto, caro Bonafede, a Di Matteo che secondo me è un disastro dal punto di vista dell'esistenza e del casino che può combinare nell'amministrazione della giustizia. Beh, insomma, questo fatto che gli ha offerto gli affari penali è una presa per i fondelli, lo sa anche l'ultimo degli usceri del tuo ministero che gli affari penali non valgono neanche un decimo di quanto vale il DAP che gli avevi promesso, ma comunque il boss Bonafede ci ripensa, giustamente titola come si chiama il Repubblica. E poi c'è un pezzo di Folli fantastico, viva Folli! Folli oggi su Repubblica scrive che in altri tempi la vicenda dei boss scarcerati, e non cita neanche la questione del 41 bis, la vicenda dei boss scarcerati avrebbe fatto cadere un ministro della giustizia a calci nel sedere, non lo dico io, lo dice Folli, cioè questa vicenda dei boss scarcerati è uno di quegli inciampi che i ministri della giustizia di qualsiasi ordine, soprattutto e grado, soprattutto se tendenza centrodestra, gli avrebbero fatto un mazzo così, e Bonafede che cosa fa? Finge fischiettando che adesso li fa ritornare in carcere, e lì ci viene in aiuto una lettera che scrive Caselli oggi al Fatto Quotidiano, perché Caselli al Fatto Quotidiano dice mettetevi d'accordo Di Matteo e Bonafede perché siete due buone persone, due brave persone, però tra gli errori che commette Bonafede in due righe, beh voglio dire Caselli un po' più coerente di tutto il resto del mondo, compreso Travaglio, dice certo che questa cosa che adesso fai, i decreti per rimettere in carcere i boss violando l'autonomia della magistratura di sorveglianza, beh mi sembra un po' così così, beh poi senza vergogna, laedo, proprio quello clamoroso, laedo, laedo provoroso, toc toc, travaglio, oggi travaglio è fantastico, ma è fantastico come sempre, è una barzelletta vivente, ma questo da piccolo che gli hanno fatto, vabbè, tutta colpa dei magistrati, oggi è tutta colpa dei magistrati di sorveglianza, non è colpa di Bonafede, non è colpa dell'uomo che lui ha nominato al DAP, che poi si è dimesso della sua vice che sta sotto commissione di Colau, non è colpa di nessuno, se non dei magistrati di sorveglianza che si sono svegliati una mattina, guarda un po', e hanno liberato 380 persone perché hanno sbagliato tutti insieme, è una specie di errore collettivo secondo Travaglio, di tutti i magistrati di sorveglianza che vengono definiti decarceratori, è una cosa straordinaria, cioè non c'è, voi le dice tra l'olio e non ci potete credere, non ci potete credere perché anche la logica proprio del buonsenso più banale non può credere a quello che ha scritto lo scritturlone di Conte di Bonafede, incredibile. Nel frattempo su questa cosa dei ristoratori multati, insomma se ne occupa soltanto il giornale, cioè il Corriere della Sera fa il fighetto dicendo flash mob non autorizzata, perché qua siamo come la Saggi che ha fatto un video che mi ha fatto venire il sangue e il cervello, se non vi comportate bene, vi faccio uscire dai parchi perché ve lo dovete meritare, ve lo dovete meritare, ma che cosa ci dobbiamo meritare? Di andare nei parchi, raggi, ma tu ti dovresti meritare purtroppo di rimanere in quella poltrona dove ti hanno votato, e ripeto io lo rispetto, il 75% dei romani, io vorrei che i romani che hanno votato la Raggi si ricordassero che quella genia dei Villa Rosa, delle Raggi, cioè di questi scappati di casa che sono diventati i nostri governatori, ve lo dovete ricordare che se lo devono meritare il vostro voto, ve lo dovete meritare di andare al parco, questo è l'atteggiamento che hanno coloro che ci governano nei confronti di voi, Minus Abens, che vi dovete meritare la libertà che in realtà abbiamo grazie ai nostri nonni che le hanno combattute insieme ai, direi, ai nostri amici atlantici che oggi vengono tenuti sempre da questi scappati di casa in secondo piano rispetto agli amichetti cinesi, ma lasciamo perdere. Stupendo questo fatto del flash mob non autorizzato del Corriere e anche in questo caso di Sala, perché io mi chiedo, Sala, invece di fare tanti bella ciao con Saturnino, senza fare queste grandi manifestazioni di una Milano prima che ripartiva quando doveva chiudere e ora che non riparte, perché ci sarà la New Normality che mi fa cagare in cui Corso Venezia e Corso Buenos Aires viene dipinta da dei pazzi criminali che pensano di mettere i posteggi degli handicappati in mezzo alla strada per far spazio ai pattini e alle biciclette. Ecco, se noi dobbiamo pensare a questi qua, devo dire, Sala, ti prego, non diventare come la Raggi. Le multe ai ristoratori è una cosa che mi fa venire orrore, come lo fa venire a Sallusti che gli dedica il fondo del giornale, che mette insieme anche la storia di questo imprenditore 57enne di Napoli che si suicida perché non regge alla tensione. Ovviamente sul fatto che questa roba sono 20 righe e si è suicidato perché è depresso, cosa che sicuramente sarà stato, ma sostanzialmente viene considerato dal fatto quotidiano poco più che un malato di mente questo imprenditore che si ammazza. Quelli del fatto sono, ricordiamocelo sempre, quelli che hanno scritto su Bertoliso, doveva aprire un cento posti letto, ne ha occupato uno. Sai, quando questi riescono a scrivere questa cosa di Bertolaso, beh, insomma, possono anche sfottere una persona che è morta, posto che la cattiveria non ha limiti. Sul decreto economico, a parte Franco che sostiene che ci sono i piccoli interessi, beh, insomma, è evidente che è un casino pazzesco. Ieri ci aveva spiegato Conte che in realtà derivava dall'Europa e qui non ci crede neanche più Babbo Natale che deriva dall'Europa. Questi non vanno d'accordo su nulla. L'unica cosa buona l'ha fatta il ministro Fraccaro, ne parla oggi anche il Sole 24 Ore questa idea e nel Sole 24 Ore quando vedi che il lancio è d'accordo, adesso bisognerebbe vedere gli artigiani se sono d'accordo su questa nuova ristrutturazione di edilizia che addirittura ti sconta al 110% quello che tu stai cambiando in infissi, in climatizzazione, in pompe di calore ed è logica la questione che oggi non scrive nei giornali. Perché fa il 110%? Perché se tu sconti, se tu spendi 10 mila euro in infissi e ti puoi scontare fino a 11 mila e ti danno fino a 11 mila di credito fiscale, tu vai alla banca che ti ridai 10 mila euro perché quei mille euro sono lo sconto della fattura del fornitore o del creditore e allora a quel punto è evidente perché lo Stato ha pensato a 110%. Vedremo nei dettagli se è ben congegnata, se così fosse sarebbe quella davvero una cosa buona, ma nel frattempo in questo decreto c'è tutto il contrario di tutto. Vi ricordo, e ieri mi è fuggita, perché nel giornale catto comunista per eccellenza, cioè avvenire, un tempo avvenire il giornale dei vescovi italiani, quelli che se la sono fatta sotto per difendere forse il loro DNA, cioè difendere le messe a Pasqua e poi hanno piagnucolato col governo perché siamo ancora l'unico paese del mondo in cui non ci sono le messe, invece di occuparsi delle messe, i vescovi italiani, invece di occuparsi della loro pastorale, invece di occuparsi degli affari loro, prima si occupavano di Salvini, oggi si occupano, sapete di che cosa, a titolo di ieri, lavorare meno, ma lavorare tutti, praticamente quello che sostengono da anni i comunisti, vedi comunisti perché neanche il PD sostiene una cosa di questo tipo e l'avvenire e la Catalfo, il ministro del lavoro, stanno arrivando a questa idea che la soluzione dei problemi sarebbe lavorare meno, lavorare tutti, dovremo lavorare il doppio tutti quanti, purtroppo la stessa paga per portare a casa un po' di quill nelle prossime settimane, invece l'idea dei vescovi e della Catalfo, senza prova entrambi i rappresentanti non so di chi, decidono che dobbiamo lavorare meno, lavorare tutti, già guardate state tranquilli perché i pubblici dipendenti in questo momento, non tutti, ma una gran parte, sta lavorando meno pagato lo stesso, tanto siamo noi che li paghiamo, perché sono a casa, non lavorano, sono bloccate mille cose, fanno lo smart working chi riesce a farlo, non vi preoccupate, due milioni e mezzo di persone siamo riusciti a farle lavorare meno, ma pagate uguali, tanto lo paghiamo noi, nel frattempo il quotidiano nazionale va sul virus e l'unico giornale quotidiano nazionale che dice che il virus è mutato, perché questo virus sta diventando sempre molto meno pericoloso, nel frattempo ovviamente Conte vuole rallentare, vuole far sì che il 18 aprano bar e ristoranti, ci poteva pensare un po' prima, non perché noi si abbia fretta, ma perché le cose non si aprono in un secondo, se oggi mi obbliga a comprare packaging, distanziamento sociale e questo virus scompare come sostiene qualcuno, io non lo so, o muta come sostiene qualcuno, non lo so, abbiamo creato un'impalcatura burocratica e sanitaria, abbiamo chiuso in questo paese e nel frattempo se io i tre caffè non li ho consumati, caro Conte, non è che si aprono fra un mese, li recupero i tre caffè che non ho consumato, i tre vestiti che non ho venduto, i tre servizi di taglio di capelli che non ho fatto, a parte quelli che riescono a fare a Palazzo Chigi. In Tridico, intervista alla stampa, il grandissimo presidente dell'Inps dice che ci sarà una, come si dice, è d'accordo su una sanatoria per colfe batanti e migranti, perché qua le sanatorie si fanno per quelli che sono irregolarmente in Italia, mentre quelle fiscali, quelle contributive per gli imprenditori che oggi stanno nel fango, no, quelle neanche si possono pensare perché le dice il centrodestra, beh, questa sanatoria in realtà è la stessa cosa che chiede il ministro dell'Agricoltura Bella Nova, che è un ottimo ministro dell'Agricoltura, ma su questa cosa io mi fido di più di Coldiretti e soprattutto di Confagricoltura, oggi lo spiega Gian Santi in un'intervista al Corriere della Sera molto bene, ragazzi, altro che sanatoria, qua il problema fondamentale, sapete qual è, sono i corridoi verdi, cioè non è che l'agricoltura tutti si possono improvvisare contadini, nonostante questa idea, capito, della totale incapacità e specificità di questo mestiere, come spiega Gian Santi, i corridoi verdi vuol dire far ritornare in Italia, dal paese dell'est, quelli che già hanno lavorato in Italia e conoscono bene i mestieri che devono fare, beh, insomma però, sulle riaperture, sui mafiosi scarcerati e soprattutto sugli imprenditori, tra poco sul sito nicolaporro.it, un bellissimo intervento di Cimmino, numero uno di Yamamai, lo dovete sentire, gli imprenditori che perdono la vita e gli imprenditori che invece di dire io resto a casa, bisogna che dicano io resto in azienda, al di là di tutte le minchiate che ci raccontano questi quattro scappati di casa, che neanche un bar riuscirebbero a gestire, copirai calenda. Ciao